Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, non se ne vuole andare nessuno e se proprio devono andare via, ci stanno a provare come è giusto che sia, che fa pure rima. Iscrivetevi al canale, un bel like al video, grazie, i vostri commenti che sono il pane per me, perché riguardo e poi ci rifletto, e soprattutto la campanella per essere raggiunti e raggiunte. Ovunque voi siate, attenzione, attenzione, le parole del mondo bianconero, le partite del mondo bianconero, i voti del mondo bianconero, ma soprattutto tutto questo porta al mercato del mondo bianconero. E allora parto dalle parole del mondo bianconero che abbiamo vissuto in queste ultime 24 ore per concentrarmi poi sul mercato. Attenzione, a partire da Capitano Danilo, che è doppio capitano, capitano con il Brasile e capitano con la Juve, che rilascia dichiarazioni incredibili d'amore nei confronti della Juventus, incredibili perché in questo momento non perché lui non abbia mai dimostrato, anzi, contrario, affetto per i nostri colori e gioia nel vestire la fascia della Juve e vivere da calciatore a Torino l'avventura con la Juventus. Insomma, incredibili perché visto il momento che si vive, cioè il mercato, in genere i calciatori sono più propensi a parlare i loro procuratori con grandi richieste piuttosto che con attestati di stima nei confronti della situazione che vivono e della società di appartenenza. Danilo è invece controcorrente, però una cosina che sfuggite più da detta. Danilo dicevo voglio restare, sto benissimo, grande avventura con la Juve, con la Juve sono cresciuto, la Juventus è una società importante, eccetera, 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 però lui è un altro di quelli in scadenza del 2025, ha detto un'opzione per un altro anno, è sfuggita nel racconto ai mercatari, che sono tanto bravi a guardare le cifre, ma poi gli sfuggono in particolare le dichiarazioni. E quindi è un po' come dire, voi pensate che io sono in scadenza di contratto, ma in realtà posso far valere l'opzione per un altro anno, e quindi è tranquillo, può andare avanti sotto quell'aspetto. Danilo è ancora capitano della Juve. Per un Danilo in abbiamo un Rabiot dubbioso. Il Rabiot dubbioso, oltre che dalla sua nazionale francese, ovviamente, pensare al fatto che ha panchinato i giocatori del Real Madrid, campioni uscenti di Champions League, per fare ancora una volta lui il titolare, guadagnarsi un voto molto più elevato della sufficienza, perché ha fatto, secondo me, una gran partita a Rabiot con la Francia, e quindi pensando a quello continua a mettersi in mostra, perché sa che arrivando alla soglia dei 30 anni e all'ultimo contratto importante che può strappare della sua carriera professionistica, poi dopo, se vuole andare a svermare, come tanti, in Arabia e negli Stati Uniti, è un altro discorso, ma il contratto importante dal punto di vista della sua carriera professionista all'ultimo è questo, sa che si può mettere in mostra agli europei e ambire, è arrivata anche la voce gossip del mercato, che il Real Madrid sarebbe interessato a lui, che può ambire all'ultimo contratto alto. E allora Rabiot è dubbioso perché dice, attenzione, che è molto contento della scelta della Juve, Tiago Motta, ottima scelta, lo conosce bene, Tiago Motta l'ha frequentato a Paris Saint-Germain, è sicuramente una via per la Juventus importante, che fa la sua carriera, dice Rabiot, Tiago Motta fa la sua carriera e io ho la mia, e quindi la mia permanenza da Juventus è indipendentemente dal fatto che venisse confermato Allegri o che si fosse andata a un certo momento come è stato su Tiago Motta. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire una cosa sola, che mamma vero Nick, che non dimentichiamoci mai il suo agente, è mamma però, è il suo agente, che il suo agente, come tutti gli agenti dei calciatori in questo momento di trattative estive, soprattutto se a scadenza di contratto, cerca di andare a rastrellare più soldi possibili e sul tavolo c'è la proposta della Juve che Giuntoli ha fatto, di 7 milioni, più magari qualche bonus, qualche piccolo aggiustamento, ma quella è che è elevata in questo momento nei canoni della Juve, bravo, ci a parte, poi ci arriviamo, ma mamma vero Nick e il giocatore ambiscono ad avere una proposta leggermente superiore, visto che l'ultimo contratto è importante, allora o la prendono dalla Juve o riescono a raccattarla sul mercato europeo, ma ad oggi noi non sappiamo di un'altra offerta che l'entourage di Ravio ha ricevuto da altra squadra europea, anche se lui, neanche tanto tra le righe, perché lo dice direttamente nella sua conferenza stampa dalla Nazionale, dice che è sereno, che è tranquillo, che si poteva, no, magari avere, diciamo, una risoluzione con un contratto nuovo prima degli europei, ma non c'è stato tempo, adesso sta pensando a quello, e comunque, e comunque, lui, lui sa che tipo di strada può percorrere da qua al futuro, come un può dire che lui magari un'offerta ce l'ha e non ce la sta dicendo nessuno, a me non risulta, però magari non risulta al mondo del mercato, mentre Manon a Veronique nel cassetto ha una proposta diversa. Certo che non si può aspettare più di tanto, è finito l'europeo, comunque finisce anche il contratto di Ravio perché a 30 giugno scade, Fonte e Juve fanno sapere di essere molto tranquilli, nel senso che se non rinnoverà il contratto Ravio andremo su un altro giocatore, però di fatto se dobbiamo andare su un altro giocatore bisogna spendere per il cartellino e bisogna spendere i soldi dello stipendio per un giocatore importante, perché Ravio è comunque un giocatore importante. Per un rabbio dubbioso alla ricerca dei soldi c'è un Federico Chiesa voglioso di farsi vedere al mondo perché dice che è ritornato ai livelli del pre-infortunio e siamo contenti per lui e naturalmente ne beneficeremo anche noi Juve se lui no ha il contratto però il suo contratto è sempre lì è in stallo e perché è lì in stallo? Perché l'entourage di Chiesa dei 5 o 6 milioni con i bonus che va a guadagnare ne vuole sensibilmente di più. 7, 8 a differenza di Ravio Chiesa in questo momento sul mercato non essendo ancora a zero perché è ancora un anno di contratto l'anno prossimo però scadrà a zero non ha queste grandi risposte proposte dall'ambiente dei top club soprattutto europei magari delle medie ma dei top club europei no anche perché il top club europeo cosa fa? Dice vediamo se è veramente ritornato dall'infortunio come prima abbiamo un anno di tempo lo monitoriamo e a giugno viene via a zero perché l'entourage del giocatore può anche fare questo gioco e dire noi non vogliamo andare via dall'aiu e dall'aiu non vuole andare via nessuno stanno bene sono pagati bene bene anche oltre quelle che sono le loro prestazioni da sempre però nel caso non ci mettessimo d'accordo con un rinnovo di contratto a salire come vogliamo noi noi restiamo lì ci facciamo un'altra annata e poi andiamo via a zero e cerchiamo di guadagnare da un'altra parte stesso discorso per Scesni che voleva stare qua a finire il suo contratto aveva ancora l'ultimo anno a sei e mezzo più bonus tredici lordi per la juve che libera perché il direttore tecnico gli ha detto devi spalmare altrimenti dobbiamo trovare una soluzione quindi cosa dice Scesni se proprio però devo andare via devo andare a guadagnare tanto e magari anche avere una buona uscita cosa che di fatto avrebbe chiesto McKennie dentro la trattativa di Douglas Lewis perché non è che McKennie non gradiva o non gradisse la destinazione a Stoneville la premia è che nel tentativo anche lui in scadenza di contratto scade nel 2025 di ottenere di più che ragionamento ha fatto McKennie io voglio stare qua l'ultimo anno la juve e se rinnoviamo un contratto però però stanno tutti bene stanno tutti bene ma il soldo chiama e quindi se tu mi dici che mi fai una proposta di contratto in cui devo praticamente spalmare perché lo devo allungare le tue condizioni non a quelle che penso io quindi è un po' come spalmare perché io penso di andare a 4 tu mi dici due e mezzo ancora quindi la mia testa è un po' come se io fossi sotto oggetto di spalmamento o spalmatura e allora la Stoneville gli chiedo 4 o 5 e contemporaneamente ti dico io ti libero di un problema e ne dai anche la buona uscita e quindi tutti vogliono restare ma nel caso dovessero scappare o fossero allontanati da una proposta non gradita della Juve ci vogliono guadagnare è il giochino delle parti bellezza è un po' come la stampa di una volta prendere o lasciare ecco che la Juventus adesso cos'è costretta a fare per risolvere tutte le sue questioni in bilico e acquistare dei giocatori che possano soddisfare il nuovo allenatore importanti comunque forti pronti per combattere e competere come tutti ci auguriamo l'anno prossimo ecco che praticamente li ha messi tutti sul mercato io non dico che siano tutti in svendita tra l'amore del cielo anzi ma tutti in vendita sì perché la fotografia è la trattativa di Douglas Lewis più fidanzata da una parte perché c'è anche la sua fidanzata cagliacciatrice quindi è un altro contratto che va messo a posto per l'eventus e da questa e da questa McKennie e Iling Junior McKennie e Iling Junior e Douglas Lewis è fidanzata sono quattro soggetti con quattro contratti da discutere e allora siccome viene data per scontata e quindi questa trattativa deve andare in porto assolutamente altrimenti diventa veramente una figuraccia dal punto di vista della gestione clamorosa fuori McKennie che si sfila quegli altri chiedono Sule Sule vale 40 troppo dentro Barrenecea fuori uno dentro l'altro quindi tutti tutti soprattutto i piccoli gioielli o comunque i giocatori importanti o comunque i giocatori che hanno fatto un'esperienza e quindi possono giocare ormai nelle prime squadre i ventus compresa come Barrenecea e i suoi fratelli vengono tutti messi sul mercato per cercare di arrivare alla risoluzione della trattativa per il giocatore che vogliamo noi quindi nessuno se ne vuole andare nel caso se ne dovessero andare ci vogliono guadagnare e tutti alla Juve in questo momento sono in vendita ecco lo stato dell'arte mentre ci apprestiamo a vedere anche giocare la nazionale italiana e abbiamo assistito all'ennesima prova invece di Vlaovic con la Serbia che è stato sostituito al minuto 64 un colpo di testa e niente più solito repertorio di quando lui diciamo non è proprio all'altezza da top giocatore e probabilmente un bel 5 in pagella che si vedrà fioccare il giorno dopo sui quotidiani specializzati Dujan che ha un contratto che quest'anno parte e diventa con nuovo ingaggio perché così era stato firmato da 12 milioni poi un paio di annati da 12 milioni netti e magari se non si accorda con Giuntoli per spalmarlo o prolungarlo come dice lui a un altro giocatore che ci ritroviamo a dargli due anni un sacco di soldi per poi magari vederlo contrattare quando va verso la scadenza a zero con qualche grosso top club attenzione alle strategie dei procuratori e degli entourage dei giocatori facciamo attenzione perché sennò corriamo il rischio di non operare al meglio quest'estate iscrivetevi al canale mettete un bel like al video commentate scampanellate per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate e non perdetevi su tuttoyove.com ogni giorno la mia virgolettata la frase del giorno perché riassume quello che è il sentimento del momento